Un danno erariale da quasi 3,7 milioni di euro viene contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 17 dirigenti ed ex dirigenti della Regione Campania. Tra i destinatari degli inviti a dedurre notificati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli figurano l'attuale Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, l'ex Presidente Rosa D'Amelio e vari componenti o ex componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tra cui Vincenzo Marai, oggi Secretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Secondo la ricostruzione dei magistrati contabili e dei finanzieri attraverso le delibere adottate tra il 2019 e il 2021 Gli organi apicali del Consiglio regionale avrebbero continuato a derogare ai cosiddetti coordinatori amministrativi dei gruppi consigliari e ai responsabili di segreteria delle commissioni consigliari un illecito trattamento economico accessorio equiparato a quello dirigenziale nonostante una sentenza della Corte Costituzionale avesse già dichiarato l'incostituzionalità di analogo trattamento economico attraverso la creazione di appositi fondi istituiti con leggi regionali. In sostanza, secondo gli inquirenti, si sarebbe perseverato nel riconoscere un trattamento analogo a quello dirigenziale a figure prive di un profilo professionale adeguato in contrasto con la competenza esclusiva assegnata in materia legislatura statale con il contratto collettivo nazionale di lavoro e con la stessa normativa regionale intervenuto a partire dal 2021 nonché in violazione e delusione dei giudicati costituzionali.